Volontari disclosure, da Como sono partite 4.000 domande di adesione. Un dato diffuso ieri da Laura Bordoli, membro del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Como e ospite del talk show Nessun Dorma. Non è ufficiale, però diciamo che Como ha ricevuto 4.000 pratiche per adesso. Più che raddoppiate. Sì, più che raddoppiate. Bisogna capire quante ancora sono in stand-by. C'è anche da dire che la direzione regionale, perché è Milano che manda a tutte le province lombarde le pratiche, ne stanno arrivando quotidianamente, per cui non è ancora finita. Al di là delle nuove, ma stanno ancora arrivando probabilmente gli ultimi strascichi di quelle consegnate negli ultimi giorni. 4.000 domande tuttavia sono ancora poche, secondo Dario Campione, giornalista del Corriere di Como ed esperto di tematiche di confine. Se noi calcoliamo comunque 20 anni di uscite, di pensionamenti, di frontalieri, 4.000 sono francamente pochissimi. Io pensavo che fossero molti di più. Nel corso della puntata sono arrivate decine di telefonate da parte dei frontalieri, coinvolti il loro malgrado nella procedura di volontari disclosure. Il commercialista Stefano Pennestri ha definito un pizzo questa procedura per gli italiani che lavorano in Svizzera. Per il popolo dei frontalieri è un pizzo, perché non c'è alla base un'evasione. Quindi, secondo me, è nata già male questa procedura, perché doveva prevedere delle regole diverse per chi ha evaso e per chi non ha evaso. In studio anche due ospiti svizzeri che hanno affrontato il tema della fine del segreto bancario nella Confederazione. In particolare, l'avvocato luganese Paolo Bernasconi ha detto che per la Svizzera sarebbe un autogol a continuare a negare lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Secondo me sarebbe un disastro, una catastrofe, se il popolo svizzero dovesse votare contro. Perché ci toglie, noi non siamo le isole Solomon o le isole Marshall, Sperse. Vi lascerebbe isolati dal contesto internazionale. Esatto, nell'oceano Pacifico. Noi siamo un'isola all'interno dell'oceano che è l'Unione Europea. Aldo Bertagni, vice direttore della regione Ticino, ha invece spiegato come cambierà l'immagine della Svizzera con la fine del segreto bancario. Cambierà qualcosa perché la Svizzera sarà sempre più simile agli altri paesi dell'Unione Europea, anche da questo punto di vista, e la Svizzera lo vuole essere. Cambierà qualcosa nella misura in cui ci si renderà conto che le banche svizzere non sono soltanto una cassaforte sicura, ma magari anche istituti che possono gestire bene i propri capitali, i propri fondi. Cambierà qualcosa in cui ci rende l'unione Europea, anche da questo punto di vista, e la Svizzera 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 la Svizzera. Grazie. Grazie.